E allora, ieri occupiamoci di un argomento leggermente diverso. Dal bianco azzurro all'azzurro. Dal bianco azzurro all'azzurro, perché parliamo di nazionale, in quanto ieri c'è stata la convocazione di un pugliese doc, potremmo dire, Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, che è andato a segno ben 21 volte nella scorsa Serie A. Un lungo viaggio quello di Caputo, classe 87, quindi a 33 anni, chiamato per vestire l'azzurro per la prima volta, lo ricordiamo, per le gare del 4 e del 7 settembre in Nations League contro Bosnia e Olanda. Caputo fa parte di un listone di 37 convocati, il suo lungo viaggio è partito dal Tamura per arrivare in vetta alla Serie A, perlomeno nei piani altissimi, per quanto riguarda il numero di gol realizzati. Noi parliamo con chi lo ha lanciato, in realtà, tra i professionisti, ce l'abbiamo in collegamento via Skype, parlo di mister Pino Giusto, che ritroviamo con grande piacere qui su Telesveva. Buonasera, mister. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato. Mister, che effetto fa vedere il nome di Ciccio Caputo lì nell'elenco dei convocati? Qual è stata la sua prima reazione? Ha detto, beh, finalmente, lo meritava da tempo, immagino. Beh, direi di sì. È chiaro che è stato un percorso difficile che Ciccio ha affrontato, però credo che negli ultimi anni sia stato il calciatore italiano più prolifico sotto l'aspetto realizzativo. Quindi un premio, direi, davvero che merita. Oltretutto, conoscendo il ragazzo, davvero lo merita perché è un ragazzo molto, molto umile. Ragazzo molto umile. Mister, ci aiuta un po' a ricordare il Caputo molto giovane che lei lanciò lì a Noi Cattaro. Dobbiamo scorrere il nastro all'indietro di più di dieci anni. Ci racconta un po' come è nata la stima tecnica per Caputo e come fu quell'annata. Beh, io sono partito nel 2007. Allenatore del Noi Cattaro in C2, direttore sportivo era Daniele Faggiano. Coppia d'attacco, inizialmente avevamo Suarez e Moscelli, ci serviva un terzo attaccante, ma per esigenze di budget dovevamo andare alla ricerca di un attaccante che chiaramente guadagnasse poco, un ragazzo giovane. Devo essere sincero, consigliato da un amico fraterno, Angelo Terracenere, che lo aveva allenato all'Altamura in eccellenza l'anno prima, mi disse Pino, fidati di me, almeno vedilo. D'accordo con Daniele, con il presidente Tato, decidemmo di portargli un ritiro a Gubbio, diciamo in visione sostanzialmente, perché difficilmente prendevo un calciatore senza averne avuto visione. Però devo essere sincero, dopo la prima settimana io e Daniele decidemmo di chiamare il presidente, di fargli firmare un contratto chiaramente a minimo, perché travedemmo le buone capacità di Ciccio. Mister, un ragazzo che tra l'altro chiuse l'anno con 11 reti, ci racconta un po' caratterialmente anche com'era il giovane Caputo, che ogni giorno in autobus si muoveva da Toritto ad Altamura, insomma si muoveva a lungo tutta la zona a sud di Bari per raggiungere un campo da gioco e coltivare un sogno oggi che va a concretizzarsi nella convocazione nazionale. Sì, io ho ammirato da subito la sua umiltà, chiaramente era un ragazzo, non aveva 20 anni quando era con noi, sono stato affascinato subito dalla sua volontà di migliorarsi, lui chiaramente attaccante, in allenamento lo provavo esterno, lo provavo seconda punta, lo provavo prima punta e lui in qualsiasi posizione lo mettevi, voleva apprendere sempre di più, sostanzialmente un ragazzo molto molto timido, molto chiuso, parlava poco, però ogni volta che gli spiegavi tatticamente qualche particolarità, lui ti chiedeva, ti ascoltava e poi dopo l'allenamento ti ricordo alcuni episodi che mi fermava dopo l'allenamento perché nonostante la sua timidezza, i suoi 20 anni mi chiedeva particolarità su quello che avevo spiegato tatticamente durante l'allenamento, questo dimostrava quanto il ragazzo volesse migliorarsi. Credo che la storia del caputo professionista sia partita proprio in quelle circostanze, in quegli allenamenti. C'è stata una particolarità perché in Coppa Italia l'ho buttato giubito dentro da titolare, mi ricordo che con la Salernitana ha realizzato immediatamente, lì ho capito che è un ragazzo che ci poteva dare una mano in maniera concreta. Ho mandato poi una grossa mano fino appunto a toccare la maglia della Nazionale. Mister, prima di salutarla le chiedo un po' del suo presente, lei è allenato in tante piazze importanti, penso a Potenza, Monopoli, Amatera, Brindisi, settore giovanile del Bari, cosa riserve il presente a Pino Giusto? Attualmente io sono un responsabile tecnico di una scuola calcio qui a Bari, è da due anni che mi sono cimentato con i ragazzi, per il momento faccio il responsabile, aiuto oltre i ragazzi, aiuto gli allenatori a una specie di formazione perché sono un loro collaboratore sostanzialmente. E d'altronde in tema anche abbiamo parlato di lavorare con i giovani, lei ha lavorato con un giovane caputo e i frutti del lavoro poi sono stati raccolti negli anni successivi. Grazie per questa bella chiacchierata a Mister Pino Giusto. Grazie a voi, ripeto, grazie di nuovo per avermi chiamato.